La sconfitta di Verona ha certificato che il periodo di flessione non è alle spalle come si poteva sperare dopo il 2-0 al Carpi, tre gol al passivo, sì con tante occasioni mancate, ma la gara del Bente Godi era di fatto chiusa dopo 5 minuti di secondo tempo al momento dell'autogol di Del Grosso. Anche dopo il nono centro stagionale di Mancuso i Biancazzurri non sono riusciti a riaprire i giochi, così resta veramente quanto accaduto nel primo tempo nel quale ha colpito la foga con la quale i Biancazzurri hanno interpretato la partita. Poca attenzione, poca lucidità nel leggere le situazioni, poco equilibrio e a completare il quadro poco cinismo. Così nel costante andirivieni del primo tempo con folate d'attacco che creavano pericoli su entrambi i fronti a rimetterci è stato proprio il Delfino. Aver sciupato all'inizio per poi subire lo svantaggio dopo la visaglia dell'opportunità di lì poteva consigliare maggiore prudenza e rallentamento dei ritmi. Il Pescari invece ha continuato a giocare a testa bassa, sempre a ritmi alti. Nel secondo tempo sono mancate poi le energie, già di per sé fiaccate dal 3-0. La lettura e l'interpretazione della partita è fondamentale per migliorare nel tempo e centrare grandi risultati. Al di là di rinforzi che possono aiutare a gennaio, di un attacco che stenta a trovare un'alternativa a Mancuso, di errori individuali difensivi e di un centrocampo che non spicca nel fare filtro, è fondamentale per salire di livello, interpretare le partite e i suoi momenti e ritrovare compattezza ed equilibrio. In fondo questa squadra resta nella parte nobile della classifica con la possibilità di lottare ancora per le prime due posizioni e tutto quel che è stato fatto sinora, tanto peraltro, non va buttato. Nelle ultime ore si parla dell'urgenza di un piano B, il richiamo fatto dal presidente Sebastini al tecnico Pilon, ma tutte le squadre hanno problemi. Benevento, Verona, per non parlare del Crotone, avrebbero dovuto ammazzare il campionato. Il Palermo, primo della classe, pareggia con l'ultimo in classifica. Insomma, non è il caso di esagerare. Il campionato è duro, molto livellato e in questo contesto il Pescara c'è e può dire la sua e la compattezza che si richiede alla squadra in campo va dimostrata anche fuori da tutto l'ambiente.